Ranieri, possiamo dire, è partito forse oltre ogni più rosa aspettativa? No, è partito bene, diciamo, al di là delle aspettative è partito molto bene, ha saputo prendere in mano la squadra sia sotto l'aspetto psicologico che sotto l'aspetto del gioco, non era una cosa forse facile, quindi bene, i due risultati sono importanti per noi. Adesso c'è il Napoli, volevo sapere che opinione ha di questa squadra, del presidente dell'Aurentesi, visto che in strada vi siete anche sentiti per Pandev e magari per Lavezzi, se è vero che avete sfiorato Lavezzi. Qualche cosa vuoi sapere? No, parlo soltanto del Napoli, che mi sembra, tutti abbiamo tifatto, mi immagino anche ieri perché il Napoli facesse bene e tutti tifiamo per il Napoli, perché è una squadra simpatica, nuova, che hanno, i giocatori stanno dimostrando di avere una grinta che può servire veramente tanto per poter vincere, il presidente è una persona di grande vivacità e di grande simpatia, quindi gli auguro veramente di far bene. Domenica, sabato ci incontreremo e vediamo ognuno di fare la sua, la propria parte. Chi è più attrezzato per lo scudetto? Chi è che? Chi è più attrezzato per lo scudetto? Vabbè insomma è un po' presto per dentro, non lo so. Hai parlato di Montali, come è possibile, nome per l'Inter, è vero? Ho detto anch'io, ma sinceramente nessuno me ne ha parlato. Questa così la dirigenza. No, Montali è una persona molto in gamba, però è tutto, molto sinceramente l'ho letto anch'io sui giornali. Grazie. Grazie.